Gianmarco Nestini replica Soleil, hai fatto un'altra pessima figura Si aggiunge un altro capitolo alla polemica a distanza tra Soleil Sorghe e Gianmarco Nestini, fratello di Luca, che l'ha attaccata in merito alla presunta relazione con Marco Cartasegne Dopo la risposta di Soleil, il fratello di Nestini ha chiosato sulla questione replicando, come riporta Isa Echia. Cara mia, mi dispiace ma hai fatto un'altra pessima figura La vicenda che ha visto Marco Cartasegna di nuovo vicino a Soleil Sorghe sta spingendo tutti i protagonisti di questa storia a uscire allo scoperto Dopo aver letto troppe notizie inesatte sul suo conto e aver ricevuto gli insulti sui social di chi ritiene abbia tradito Luca Nestini mentre si trovava recluso nella casa del grande fratello Vip, Soleil prende la parola e replica attraverso il suo profilo Instagram Quando avrò tempo per rispondere alla marea di stupidaggini e cattiverie dette in questi giorni sarò la prima a farlo Nel frattempo riflettete bene sulle vostre parole perché non solo sono piena di ignoranza, ma quando dirò la mia e capirete come stanno le cose, non accetterò più le vostre scuse. L'attacco di Gianmarco Onestini Le parole di Soleil sono riferite probabilmente a quanto ha detto Gianmarco, fratello di Luca Onestini, a proposito dell'incontro con Marco Cartasegna. Convinto che il fratello non avrebbe apprezzato, l'uomo ha attaccato la sorghe Ciao ragazzi, faccio queste Instagram Stories per rispondere ai continui messaggi che mi arrivano da ieri mattina per quanto riguarda la storia fatta tra Soleil e quell'altro soggetto là Allora, partiamo dal presupposto che io l'ho appreso ieri come lo avete scoperto tutti voi. È una cosa che non fa piacere a me e che non farebbe piacere neanche a Luca Credo che occorra dimostrare maggiore sensibilità dato che Luca è dentro la casa e che certe cose non le può sapere. Quello la può essere tutto forti e un amico. Forse solo un conoscente Ci sono mille mezzi di trasporto. Ci sono autobus, taxi, metro. Il modo per evitare di salire in macchina con quello lì c'era. Che quello la continui a mettersi in mezzo perché non lo ca' più nessuno è un problema suo Sarò all'antica, sarò quello che volete però questa è la mia opinione. Le foto di Marco con Soleil. Tutto è nato dall'incontro tra Marco e Soleil. È stata proprio la fidanzata di Luca Onestini a confermare il loro incontro Mi spiace deludere la vostra malizia ma siamo amici, c'erano più persone in quella macchina anche se non sono tenuta a giustificarmi Ad ogni modo, le persone a noi care ne sono a conoscenza e la storia delle Instagram stories cancellate l'avete inventata voi perché non ci sono problemi a essere visti parlare dato che non c'è nulla da nascondere Grazie a tutti